buongiorno buongiorno amici ed amiche del canale buongiorno dal vostro nick juve buon pranzo a tutti mi raccomando al solito così come state facendo e continuerò sempre a ringraziarvi iscrizione al canale like al video condividete il più possibile attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornate aggiornate sui miei contenuti al solito vi aspetto nel post video per i commenti così come faccio da sempre mercato al momento per me eccellente arriva non arrivi sancio cambia poco dovesse arrivare all'ultimo non si sa si vocifera si dice berardi o meno non mi interessa chiunque arrivi basta che si vede questo entusiasmo che sto vedendo ho visto l'arrivo di coppominers l'abbraccio con i compagni e l'arrivo negli spogliatoi finalmente 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 24 ore 48 ore non passavano mai sempre a nominare te coppominers 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 fino alla fine fino alla fine però alla fine finalmente sei arrivato detto questo oggi purtroppo perché proprio sembra ci si mettano d'impegno a farmi innervosire tra virgolette a farmi dire poi realmente quel che penso perché come sapete come mi conoscete ormai da tempo difficilmente ho peli sulla lingua e difficilmente le cose storte le sopporto vi ricordo una piccola parentesi ricordo l'anno scorso quando si vociferava di tiago motta che potesse andare sulla panchina del milan ecco un grande mentore il grande il più grande allenatore di tutti i tempi della storia del calcio mondiale arrigo sacchi disse che sarebbe stato una cosa eccezionale perché è un allenatore lungimirante visionario che vede laddove altri non vedono bene peccato si sia casato sulla panchina della juventus e allora questo piccolo dettaglio fa sì che oggi ieri arrigo sacchi se ne esca con queste esternazioni molto molto simpatiche ricordando sempre al buon arrigo sacchi che credo che sia io che tutti noi che vi diciamo che siamo sul web che mi seguite da casa se ci fossimo seduti su quella panchina di quel suo milan con gullit bambasten rai card eccetera credo che senza alcun dubbio anche noi avremmo vinto visto che poi al parma e all'atletico madrid ha fatto cagare però questo è un dettaglio non diciamoglielo perché è molto suscettibile e irritabile il signor arrigo sacchi però il signor arrigo sacchi dice testualmente leggo ci sono due questioni da considerare sta affrontando queste prime partite con dei giovani non ancora formati cazzo eppure io avevo visto due mani due braccia due piedi pensavo fossero già formati non sono formati ma forse si riferisce al livello tecnico tattico non sono ancora formati ma lasciamo stare tra lasciamo andiamo avanti che magari ritengono facili situazioni che non lo sono quindi quello che stanno facendo non è perché lo hanno capito è un po come quando si va a scuola devi leggere tra le righe e ascoltare le persone capendo fin quanto possono spingersi ad essere imbecilli o se siano proprio di fabbrica così evidentemente di fabbrica quindi forse non le hanno capite però le cose le riescono a fare quindi saranno fenomeni però andiamo avanti lo stesso non fa niente non fa niente la juve storicamente non ha mai toccato vette eccelse di gioco no 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 non se n'è andato l'audio 96 97 98 tre finali di champions la juve di lippi veniva spesso visionate fatta visionare da ferguson che diceva sui calciatori non guardate quello che fanno nei dettami tecnici ma cosa ci mettono in quegli allenamenti in quelle partite quindi era una juve che veniva anche presa ad esempio quindi mette eccelse di calcio non le ha mai fatte andava pure a milano gli eliminava sei un giro per l'europa a volte ne tirava due tre quattro agli avversari però andiamo avanti evidentemente lui vede cose che gli altri non vedono e aggiunge anche giustamente bisogna vedere se la società lo farà continuare a lavorare alla sua maniera perché può essere pure che domattina sia scanavino che ferrero entrino in campo gli tolgano i coni per il campo le sagome e dicano loro da oggi in poi gli allenamenti devono essere fatti così o scende a john elkan chi possa cambiare questo input perché aggiunge aggiunge la juve in passato ha vinto aggiungo tra parentesi io secondo quello che pensa lui non perché era forte ma per la sua potenza economica e politica noi il tuo milano con berlusconi invece non ne aveva di potenza politica era un club che veramente camminava sui suoi passi camminava sul tuo lavoro sul tuo operato perché eri un grande illustre allenatore tra i più grandi anzi forse il più grande del mondo ma veramente arrivo io ma all'epoca forse avevo visto in allegri magari una forma un po troppo sfottente nei tuoi confronti e mi era accorto che te levi un pochettino presa dal tuo colorito che è diventato di improvviso rosaceo rosaceo rosato più che altro ma adesso mi rendo conto che tu proprio lo fai sistematicamente a dir cazzate soprattutto contro la juventus e qualsiasi cosa graviti attorno alla juventus perché se sullo stesso allenatore che prima doveva quasi essere vicino al milan ti esprimevi in totale modo completamente opposto e diverso e oggi tenesci con queste stronzate con la super stronzata che la juventus quando ha vinto ha vinto perché era più forte economicamente e politicamente perché gli altri club quando hanno vinto perché vincevano perché compravano l'ultimo giocatore del panorama mondiale perché avevano un euro e cinquanta o mille lire in tasca visto che ai tuoi tempi si lavorava ancora con la lire si comprava e si cedevano calciatori in lire ragazzi con tutti questi imbecilli non ne verremo fuori facilmente però visto che è facile ed è anche bello di squisire su questo vi aspetto nel post video per capire anche voi su questo grandissimo argomento cosa ne pensate e magari a breve se ne uscirà ricosacchi dicendo che fonseca è un allenatore molto molto in gamba e che dovrà avere solo del tempo il tempo di capire se può mangiare il panettone o meno al prossimo video un grande abbraccio dal vostro nick juve non se ne può più ciao applausi